Buon pomeriggio, buon pomeriggio, anzi buona serata ormai, buona epifania, soprattutto alle bimbe e ai bimbi a cui saranno arrivati un sacco di caramelle, un sacco di dolcetti, qualche peluche, qualche puzzle e tanto affetto dalle mamme, dai papà, dai nonni. Quindi evviva, evviva la Befana. A qualcuno sarà arrivato anche il carbone, a me no. Ho aperto qualche pacchettino, però non sono arrivati carboni o carboncini né da Orlando, né da De Magistris, né da Saviano, né da Renzi, niente. Dolcezza e dolcezze, anche da parte di tanti italiani. Oggi ho fatto due passi per Roma e devo dire che ogni volta mi stupisco e mi commuovo, e non uso un verbo esagerato, perché non si riescono a fare 100 metri senza poi essere bloccati per 10, 20, 30, 40 minuti da scolaresche, da famiglie, da nonni, da bimbi di 10 anni, per una foto, per una carezza, per un abbraccio, per una spiegazione, per un commento, per un suggerimento. E allora poi sono tornato a casa e ho detto vabbè aspettiamo un attimo a riuscire. Ho detto non sono mai stato la domenica in San Pietro, non durante la messa perché c'era troppa gente evidentemente, però finita la messa andiamo a vedere San Pietro com'è questa splendida piazza. Oggi peraltro c'era anche una bellissima domenica di sole, poi una domenica santa, è importante per il cristianesimo e ho iniziato a fare i primi 200 metri via della conciliazione, zero stop, non sono arrivato in piazza San Pietro. Anche lì dopo un'ora e venti di strette di mano, di abbracci, di incoraggiamenti, non mollare, grazie, andate avanti, tenete duro, ho dovuto fare dietro front, San Pietro l'ho fotografato da lontano e mi son portato a casa però il cuore gonfio, la testa e i polmoni di questa aria bella, buona, sana, positiva, gioiosa. Poi uno guarda qualche telegiornale e vive un mondo a parte, dove invece sono brutto, cattivo, egoista, razzista, fascista, nazista, addirittura ci sono sindaci di sinistra, governatori di sinistra, pseudo intellettuali di sinistra. Oggi il signor Scalfari Eugenio sulla Repubblica ha fatto tutto un lungo editoriale in cui sono un semidittatore, un semidittatore, siamo in una semidittatura in Italia, voi siete dei semisudditi o qualcun altro forse un semiscemo, visto che fortunatamente siamo in democrazia, siamo un paese ancora più libero, forte, sereno, sicuro, orgoglioso rispetto a qualche mese, a qualche anno fa. E continuo a chiedere i giornalisti ma allora quanti migranti accogliete? Zero. Abbiamo già dato. Io personalmente in questo ufficio, adesso vi faccio vedere la scrivania, tanto non ci sono documenti segreti, sto studiando alcuni dossier su cui lavoriamo domani, su questa scrivania io personalmente da Ministro degli Interni ho firmato il permesso di arrivare in Italia in aereo a centinaia di donne e bambini riconosciute davvero in fuga dalla guerra da associazioni serie che arriveranno in Italia in aereo. E in Italia, fuggendo davvero dalla guerra, avranno la loro casa, il loro presente e il loro futuro di vita. Però basta. Per i trafficanti di esseri umani e per i complici dei trafficanti di esseri umani, i porti italiani, finché sono ministro, erano, sono e rimarranno chiusi. Anche perché, ripeto, ai fenomeni di sinistra dell'accoglienza, apriamo i porti, mandiamo navi, chiamiamo navi, che grazie a questo traffico di esseri umani, gli scafisti comprano armi e droga, che poi in parte arrivano in Italia. Io non sarò mai complice di chi vende esseri umani, esponendoli al rischio di morire sul fondo del Mediterraneo, per poi comprare armi e droga da spacciare e vendere in Italia. Stop! Stop coi traffici, stop coi delinquenti, anche perché quei generosoni delle onlus che sono nelle acque maltesi da giorni si sono rifiutati di obbedire a precise indicazioni che erano state impartite e prevedevano l'intervento delle imbarcazioni della Guardia Costiera Libica. Business, soldi, quattrini, danè, schei. Io non mollo di un millimetro. Chi fa i soldi sulla pelle della gente non ha un porto italiano dove venire a fare e concludere i suoi affari. C'è una nave tedesca? C'è una nave olandese? Aprano il cuore, aprano i porti, aprano i portafogli, aprano case alberghi, Germania e Olanda. Quasi un milione di persone sono arrivate in Italia negli ultimi anni. Stop! Anche perché, e lo ripeto a qualcuno che invita ad avere buon cuore, buon cuore dobbiamo averlo innanzitutto nei confronti dei 5 milioni di italiani poveri, 1, 2, 3, 4, 5. 5 milioni di italiani poveri, stasera, che non hanno festeggiato a Natale col salmone, che non sono andati a sciare Cortina a Capodanno e a cui stamattina la Befana non ha portato nulla, se non forse una tazza di latte. Ecco, questi dispensatori di accoglienza, di bontà, di generosità in grande stile, la dimostrino nei confronti di questi 5 milioni di italiani che vivono stasera, 6 gennaio 2019, in condizioni di povertà. Noi come Governo ci mettiamo tutto l'impegno e tutti i soldi possibili, cancellando la legge Fornero, riducendo le tasse ai piccoli imprenditori, alle partite IVA, agli artigiani e ai commercianti, superando la direttiva Bolkestein e restituendo speranza di vita, di lavoro e di futuro a centinaia di migliaia di lavoratori, inserendo il reddito di cittadinanza, che aiuterà gli ultimi, i disoccupati, i fantasmi, gli inesistenti italiani, magari con uno, due, tre, quattro figli, con la casa in affitto, col mutuo, precari, appena licenziati, disoccupati. Ecco, questi sono soldi che vanno ad aiutare veramente chi ha bisogno, ed è qua magari da 5, 10, 15, 20, 30, 40 anni. Ecco, quando avremo risolto il problema dei 5 milioni di italiani in povertà e aggiungo, dramma nel dramma, un milione e duecentomila bimbi, un milione e duecentomila bambini, non dall'altra parte del mondo, non in India, non in Nigeria, in Italia. Oggi, adesso, un milione e duecentomila bambini vivono in condizioni di povertà assoluta, vivono in famiglie che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Questa è la povertà su cui stiamo lavorando. Poi, quando avremo risolto questo problema, siccome lo stipendio ce lo pagano gli italiani, aiuteremo anche tutto il mondo, per carità di Dio. Ma io dico ai sindaci e ai governatori ribelli, contro la sicurezza, contro il decreto sulla sicurezza. Il governatore della Toscana, che dice bisogna aiutare gli immigrati e ha decine di migliaia di cittadini toscani che aspettano una casa popolare. Il sindaco di Napoli, che fa il fenomeno, dice mando io le barche a salvare questi immigrati e hai migliaia di napoletani che non hanno una casa, un lavoro, una scuola o un posto in ospedale, se non in mezzo ai rifiuti e alle formiche. Ma non avete neanche un po' di vergogna, ma non avete neanche un po' di ritegno, di buonsenso, di dignità. Chi non riesce a risolvere i problemi di Napoli, di Palermo o di Firenze, o di Reggio Calabria o di Pescara o di Milano, deve passare le sue giornate preoccupandosi dei problemi dell'altra parte del mondo. Per carità di Dio, io sono andato in Ghana da ministro dell'interno, brutto e cattivo, no, a fare un accordo col governo ganese, con un'impresa italiana, per garantire la vitto, alloggio, sanità, scuola e futuro a migliaia di ragazzi che così non saranno costretti ad attraversare il deserto e a rischiare di morire sul fondo del mar Mediterraneo. Donne e bambini sui barconi io non ne voglio più vedere e non sarò mai complice di questi trafficanti spregevoli di esseri umani. Gli scafisti, dal mio punto di vista, devono cambiare mestiere o cambiare pianeta. E coloro che consapevolmente o inconsapevolmente ne sono complici non avranno mai il mio sostegno. Ok? Ringrazio Piera, ringrazio Ajaia, ringrazio Gianna, ringrazio Cecilia, ringrazio voi che siete in 15.000 alle 6 del pomeriggio della Befana, ringrazio Davide, ringrazio Gaetano, ringrazio Fausta, ringrazio le migliaia di cittadini abruzzesi che ho incontrato in questo bellissimo quasi weekend, venerdì e sabato, fantastico, me lo porto nel cuore l'affetto dei cittadini di L'Aquila, di Pescara, di Chieti, di Teramo, di Roseto, di Montesilvano. Presto sarò anche in Sardegna e so che in tanti mi chiamate e mi chiedete quando a Padova, quando a Varese. A proposito ringrazio i vigi del fuoco di Varese che hanno combattuto per ore e per giorni contro un enorme incendio che ha devastato le splendide montagne di quella provincia. E poi mi aspettate a Reggio Calabria, mi aspettate a Palermo, ci sarò. A proposito di Palermo, mentre il sindaco di Palermo è uno dei fenomeni che si occupa di insicurezza e vuole più immigrazione, su questa scrivania ho proprio le prossime tre ville, questa è una delle foto, questa è una delle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò l'onore, l'orgoglio e la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo. Sperando che poi il sindaco non ci piazzi dietro degli immigrati. In una di queste ville in via Vergine Maria, per l'esattezza, torveranno accoglienza per finalità sociali dei bimbi e dei ragazzi autistici. Sono ville confiscate dalla famiglia famosa mafiosa, Arenella, Vergine Maria, Acquasanta, mandamento di Resuttana, Palermo. Ecco, sono qua, il giorno della Befana, non so dove sono i sindaci o i governatori ribelli. Io sono qua perché è mio piacere, è mio dovere, visto che mi pagate lo stipendio, per ascoltare, incontrare, ricevere e risolvere. Soprattutto domani qua c'è un altro dossier, convocheremo il tavolo sul calcio, sugli stadi sicuri, con gli arbitri, con le società di calcio, con i tifosi, con i giornalisti, con i poliziotti, per capire come si può tornare ad un livello di civiltà e di rispetto per andare a vedere una partita di pallone. Tanti dossier ci sono su questo tavolo. Ci sono i soldi, i milioni di euro messi a disposizione dal decreto sicurezza per tante città italiane. Vediamo se riesco anche a entrare nel dettaglio, visto che molti giornalisti non hanno né voglia né tempo di scriverlo. Ve lo racconto io, visto che molti giornalisti preferiscono attaccare il governo a prescindere. Ci saranno milioni di euro per molte città. Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Messina, Reggio Calabria, Cagliari e via dicendo. L'elenco è ancora lungo. Ringrazio i sindaci che mi hanno mandato gli auguri e i ringraziamenti per il Natale perché in questa manovra economica abbiamo sbloccato miliardi di euro che avevano fermi nei cassetti da anni. Abbiamo permesso di spendere gli avanzi di bilancio, il che vuol dire che dai prossimi giorni si apriranno i cantieri per sistemare le strade, per sistemare le scuole, per sistemare le biblioteche, le palestre, le case di riposo, soldi fermi da troppi anni che abbiamo liberato perché noi crediamo nell'Italia, crediamo nei sindaci di questo paese, crediamo nei comuni, crediamo nelle autonomie. Bello. Poi ho la tele dietro, ecco vi porto un po' spasso per l'ufficio del ministero dell'interno, tanto segreti non ce ne sono, uno splendido dipinto alle spalle, una tele per essere aggiornati su quello che accade. Qua c'è un tavolo dove accumulo un po' di regali che mi portano coloro che vengono a trovarmi. Qua vediamo cosa c'è. col direttilecco, questo è del Family Day, questa è un'altra felpa che mi è stata regalata, poi un tavolone con magliette di calcio, libri, spillette, cravate. Una pianta ha bisogno di acqua, questa pianta ha decisamente bisogno di acqua. Questo poi è il divano dove si incontrano ambasciatori, amministratori delegati, primi ministri, imprenditori, normalissimi cittadini, questori, generali per discutere, per parlare. Questa è la bottiglia che mi ha regalato Albano con dedica. Vediamo se riesco a girare. No, non riesco, faccio casino, però eccolo qua. vediamo se. Caro Matteo, buon Natale, buon tutto e buon governo. Albano, tenute Albano Carisi, ma che bella bottiglia. Qua c'è da bere. Peraltro con etichetta riserva speciale Matteo Salvini. Carino no, carino no. Sono incorruttibile però. Una bottiglia di buon vino, piuttosto che un piatto di tortelli di zucca male non mi fanno. Qua c'è del marzapane che mi hanno regalato dalla Sicilia e anche il marzapane. Qua ci sono delle targhe di alcuni viaggi che ho fatto all'estero, in Libia, in altri paesi. C'è quella, la targa dell'Associazione Italiana Arbitri, con stima e gratitudine. Un saluto e un abbraccio a tutti gli arbitri. Maltrattati. Qua ci sono un po' di libri donati. Qua c'è un Babbo Natale di cioccolato che è rimasto ancora lì. Una bussola. Tutankamon. Un orologio. Anche qua altri ricordi. Questa è la missione ad Erat. Questi sono i miei due gioielli. Qua c'è il gagliardetto a cui sono molto affezionato dell'Avis, dell'Associazione Italiana Volontari del Sangue, e spero che qualcuno di voi trovi la voglia nel 2019 per diventare donatore di sangue, perché è un gesto gratuito, che fa bene a chi riceve il sangue che non si può fabbricare, però fa bene anche a chi lo dona, perché c'è uno screening totale dello Stato di salute. Vabbè, poi non vi porto in giro per il resto dell'ufficio. Spero che Renzi mi permetta di bere un goccio di Fanta, senza che questo comporti dotte analisi su perché Salvini beve, sì anche i ministri bevono. Qualche secondo per ringraziare voi? Dai, non riesco mai a farlo con tutti come vorrei, però ringrazio Chiara Montori, ringrazio Maria, ringrazio Ugo, ringrazio Omar, ringrazio Cinzia, ringrazio Nicola. Quest'ora a Piazza Garibaldi a Napoli c'è il coprifuoco, con queste persone sono molto pericolose. E dille al sindaco che vuole andare invece a prendere immigrati in mezzo mondo. Ringrazio Samantha, ringrazio Vanni, ringrazio Tiziano, ringrazio Anna Franceschi che ricorda Silvia Romano, ancora introvabile in Africa, su cui silenziosamente ma concretamente il Ministero degli Esteri si sta muovendo già da tempo. Ringrazio Patrizia, ringrazio Francesco da Colico, ringrazio un altro Francesco, ringrazio Daniela, ringrazio Luca, ringrazio Gaetano. Facciamo una festa della Lega con gli arrosticini in Abruzzo, magari, li ho mangiati ieri l'altro ed erano fantastici. Ringrazio Pinuccia, ringrazio Paola, ringrazio Elena, siete una marea e molti di voi mi stanno scrivendo, mi raccomando non mollo, non mollo, è una questione di giustizia, di buonsenso, di rispetto delle regole. In Italia si arriva, se si ha il diritto di arrivare, chiedendo permesso, dicendo per favore e magari alla fine regalando un grazie, un grazie. Perché se qualcuno di voi o se io stesso domani volessi partire per l'Australia, mi fanno non una ma due visite mediche, mi chiedono quanti soldi ho sul conto corrente, mi chiedono che lavoro faccio e poi mi dicono puoi venire o puoi stare a casa tua. Lo stesso in Canada, lo stesso in Svizzera, lo stesso negli Stati Uniti. Ecco, se per anni qualcuno ha abituato gli italiani a regalare tutto a tutti, a far finta che non esistessero confini, regole, diritti e soprattutto doveri, è arrivato il ministro che ha deciso di far rispettare le regole e i sindaci sono pregati di applicare le leggi approvate dal Parlamento italiano. I governatori delle regioni sono pregati lavorare per aprire gli ospedali invece di chiuderli, in Toscana e in Calabria. Il governatore della Toscana e il governatore della Calabria hanno annunciato ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Salvini. Ma occupatevi un po' degli ospedali della Toscana e della Calabria, occupatevi un po' dei treni della Toscana e della Calabria, occupatevi un po' delle case popolari della Toscana e della Calabria, provate ad aiutare gli agricoltori e i pescatori e i commercianti della Toscana e della Calabria. Forse, visto che non ne siete capaci, avete bisogno di occuparvi dei problemi del resto del mondo, visto che non riuscite a risolvere i problemi di Napoli o di Palermo, di Milano o di Bologna, di Pescara, della Calabria o della Toscana. Ecco, finché ci sarò io al Ministero dell'Interno senza essere un genio, senza essere un superuomo, ma da persona normale che è stata educata dai suoi genitori a dire grazie, a dire per favore, a chiedere scusa in caso di errori che posso commettere, sicuramente commetto ogni giorno, però le regole si rispettano. Non esistono solo diritti, ma esistono anche doveri, perché i diritti senza doveri non portano a nulla di buono. E questo è il conforto che mi danno migliaia di persone vere e normali, che quando ho occasione, come oggi, di tirare il fiato per un'oretta, di passeggiare tranquillamente da cittadino o fra i cittadini, per le strade di Roma, è un po' impegnativo non poter fare il turista, perché non sono ancora riuscito a vedere quasi nulla delle bellezze di questa città, nonostante ci stia lavorando da tanti mesi. Però, peraltro, è bello. È il mio miglior riconoscimento essere fermato da quelle mamme che ti dicono grazie, da quelle nonne, da quei bambini. Una marea di ragazzini 13, 14, 15, 16 anni, che invece di rintronarsi tutto il giorno solo e soltanto davanti ai giochi elettronici, che per carità di Dio fanno piacere, però vivono anche la vita all'aria aperta e si occupano di politica. Io voglio dire grazie ai tantissimi di voi che hanno riscoperto il bello della politica, la passione dell'impegno politico, il senso di partecipazione, l'appartenenza a una comunità, il fatto che dalle parole si possa passare i fatti. Questo è il bello della Lega che ho l'onore di prendere per mano e di tenere per mano da qualche anno, dalle parole ai fatti, concretezza. Ringrazio Franco dalla bellissima Recco e ti dico mi manca la focaccia col formaggio e soprattutto la focaccia alle cipolle di Moltedo. Ringrazio Paolo, ringrazio Cristiano, ringrazio Giovanna, ringrazio Daniela, ringrazio Claudio, ringrazio Gabriele. Siamo più di 15 mila in questo momento. Ringrazio anche i tanti immigrati regolari e per bene che sono in questo Paese d'anni, che rispettano la storia e la cultura e le leggi di questo Paese, che pagano le tasse, che mandano in figli a scuola, che fanno un lavoro onesto e che sono italiani quanto me. Io voglio un Paese aperto, apertissimo per chi porta rispetto, porta cultura, porta valore, porta tradizioni, ma chiuso per i trafficanti, i trafficanti di uomini, i trafficanti di droghe, i trafficanti di armi. No, stop. Perché dico no all'apertura dei porti. Perché se cediamo il 6 gennaio, il 7 gennaio siamo da capo. E l'8 gennaio ancora. E il 9 gennaio ancora di più. E gli scafisti tornano a far quattrini. E le ONG, che non rispettano regole, ordini e leggi, continuano ad aiutare i trafficanti di esseri umani. Stop, lo ripeto, da padre di famiglia, col sorriso, con bontà, avendo la coscienza a posto. Sono un peccatore, fra i peccatori so benissimo che passerò parecchio tempo in purgatorio quando il buon Dio mi chiamerà, però ritengo di lavorare per il bene anche di quelle donne e di quei bambini, che non dovranno più essere usati come merci, non dovranno più pagare migliaia di euro per un posto insicuro, su un barcone insicuro, in un mare insicuro, se scappano davvero dalla guerra arriveranno in Italia in aereo, con tutti i crismi, con tutti i diritti del mondo. E il decreto sicurezza non toglie neanche un diritto agli immigrati per bene e ai profughi veri. Semplicemente rispedisce a casa e permette alle forze dell'ordine di rispedire a casa migliaia di finti profughi che vengono qua per spacciare, per stuprare, per scippare, per rapinare e per fare casino. Non abbiamo più bisogno di queste persone. Stop. Ci tenevo a dirvelo. Magari vi state riposando, magari state studiando come mio figlio che ha fatto dieci giorni a casa tranquillo e poi si è accorto che domani si torna a scuola e ci sono un bel po' di compiti da fare. È inglese, è storia, e grammatica e antologia. Un abbraccio a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze che hanno passato qualche giorno di relax, però domani si torna a scuola. E sono contento che questo governo, a costo zero, perché costa zero, dall'anno prossimo riporti sui banchi di scuola l'educazione civica per reinsegnare il rispetto delle regole, i diritti e i doveri, il rispetto delle insegnanti, il rispetto delle maestre. La maestra ha sempre ragione, il prof ha sempre ragione. Questo vale anche per l'incontro sulla sicurezza negli stadi di domani. L'arbitro non si pesta. Può partire un fischio, può partire un vaffa, puoi pensare quello che vuoi, ma la violenza non è mai la risposta. La violenza non è mai la soluzione, né a scuola, né allo stadio, né nella vita, né in politica. Purtroppo ci sono alcuni scemi che ogni giorno mi mandano minacce di morte, insulti, lettere anonime, proietti di imbusta e ti faccio qui e ti faccio là. Non mi fate paura, mi fate tenerezza e mi fate un po' compassione. Ieri ero all'Aquila in mezzo a centinaia di bellissime persone sotto la neve che il 10 febbraio ridaranno forza all'Abruzzo e c'erano 30 poveretti, tutti col volto mezzo coperto che urlavano, Salvini attento, ancora fischi al vento. Io guardavo su, è vero che nevicava. Salvini assassino, ricordati di Piazzale Loreto. Ma Piazzale Loreto io a Milano non la conosco bene, c'è la stazione della metropolitana, c'è la Upim, ci sono dei bei ristoranti. Quelli che sono rimasti allo scontro fascisti, comunisti, Mussolini, Hitler, la dittatura, la dittatura, il signor Scalfari Eugenio oggi, pagine, pagine su Repubblica. L'Italia ormai è una dittatura di Salvini, anzi è una semi dittatura, è una semi dittatura. Guarda che gli italiani hanno votato, è certo purtroppo per te non hanno votato i tuoi amici del PD e della sinistra. Che cattivoni questi italiani che non hanno rivotato Renzi, Laboschi e Monti e Gentiloni e Laboldrini. Pensa che cattivoni questi italiani che si fanno fregare da un ministro che mangia pane e nutella. Pericolosissimo mangiare pane e nutella in Italia. Non si può mangiare pane e nutella in Italia. Dai ragazzi fate ridere. Abbiamo delle opposizioni che se si attaccano al pane e nutella vuol dire che riconoscono che il ministro dell'interno e l'intero governo stanno lavorando bene. E di questo ringrazio anche gli amici dei Cinque Stelle con cui cercano di farci litigare ogni quarto d'ora ma con me non attacca. Basta che si mantengano gli impegni. impegni che abbiamo tenuto sulla legge Fornero, sulla flat tax, sulla pace fiscale, sulle riforme, sul taglio dei vitalizi. Certo siamo solo all'inizio, rimane ancora tanto da fare. Però lo stesso impegno sono sicuro verrà mantenuto sulla legittima difesa. Sono sicuro che non ci saranno scherzi in Parlamento nel giorno dell'approvazione della legge che garantisce la sicurezza e la difesa legittima nelle nostre case. Nessuno vuole far west, nessuno vuole regalare le pistole, anzi il modello americano dove vai in negozio e compri una pistola o un fucile non è il mio modello. Il mio modello piuttosto è quello svizzero dove i delinquenti sanno che in una casa su due c'è un cittadino che si può e si sa difendere. Tu caro rapinatore che magari mi stai guardando, perché sulle centinaia di migliaia di persone che guardano questo video ci sarà magari anche un rapinatore, ebbene tu signor rapinatore hai scelto un mestiere a rischio e se entri in casa mia o se entri in casa di un italiano o nel negozio o nell'azienda agricola o nella cantina o nell'officina o nella tabaccheria o sul taxi o nella farmacia, sai che se trovi una persona armata legittimamente e pronta a difendere se stesso, sua moglie, i suoi figli, la sua vita e il suo lavoro, sei tu signor rapinatore che sei intorto. Non è l'italiano che si difende, che poi deve passare tre anni fra tribunali e spese legali per dimostrare che si è difeso perché è aggredito in casa sua alle tre della mattina. Legittima difesa è un diritto, il diritto alla vita. La proprietà privata è sacra e non si tocca. E quindi tu, caro rapinatore, cambia mestiere, perché voglio che l'Italia sia un paese civile come tanti altri, dove chi entra in casa di qualcuno o nel negozio di qualcuno si attacca, sa che cosa rischia. È una legge così strana? Presto sarò in Piemonte, Adriana, ringrazio Giulia, ringrazio Massimiliano, ringrazio Angela, ringrazio Stefano, ringrazio Ludwig e ringrazio tutti voi. Grazie a voi siamo qua, siamo in questo ufficio. Pensare a un uomo della Lega, ministro dell'interno, che si occupa della sicurezza e della difesa dei confini di questo paese, fino a un anno fa era impensabile. Grazie a voi quello che era un sogno oggi è realtà. E penso che stiamo dimostrando coi fatti che ci stiamo meritando la vostra fiducia. Io non mollo di un centimetro. Possono fare appelli, e Fabio Fazio, e il Vescovo X, e il Tizio Y, e lo scrittore, e la ONG, e il cantante, e il musicista, e il calciatore. Io rispondo a 60 milioni di italiani che hanno diritto a un paese in cui si entra se si ha il diritto di entrare. Punto. Niente di più, niente di meno. Questo è il mio impegno. Per l'anno passato, e l'abbiamo dimostrato coi fatti, 100 mila sbarchi in meno e tanti morti in meno. Per il 2019 mi propongo di fare ancora meglio, sia sulla riduzione del numero degli sbarchi che dei morti, che sull'aumento delle espulsioni, che già l'anno scorso sono aumentate e vedremo di aumentare ancora di più. Sulla lotta alla mafia, ripeto, c'ho l'elenco delle città pronto a visitare per restituire ai cittadini ville, negozi, macchine, aziende portate via ai mafiosi. Abbiamo già messo nella manovra economica il rifinanziamento dell'operazione Scuole Sicure, per andare a beccare gli spacciatori di droga fuori dalle scuole. Spiagge Sicure, per andare a combattere il commercio abusivo e difendere il diritto al lavoro dei commercianti e degli artigiani per bene, italiani o stranieri che siano, che pagano le tasse. E altre iniziative abbiamo pronte sullo sgombero delle case popolari e dei palazzi occupati abusivamente, sull'aumento delle forze dell'ordine, dei mezzi, degli impagamenti degli straordinari, degli equipaggiamenti. Si sta per concludere la sperimentazione della pistola elettrica, che sarà data in dotazione a polizia, carabinieri e anche polizia locale. Già da questi giorni entreranno in funzione mille braccialetti elettronici per tenere sotto controllo altrettanti carcerati che tornano a casa e che non potranno andare in giro dove gli parrà perché verranno controllati. Ci sono nel decreto sicurezza i soldi per la videosorveglianza, per le telecamere. Ero a Pescara ieri l'altro, quasi un milione di euro solo per Pescara e per le videocamere in sorveglianza a Pescara, quindi non ci stiamo grattando la pancia come invece qualcun altro in passato ha fatto, magari proprio in questo ufficio. Penso che stiamo valorizzando l'impegno che voi italiani, la fiducia che voi italiani mi state e ci state dando. Ho intenzione di andare fino in fondo, vi ringrazio, il primo impegno è andare a innaffiare questa pianta perché altrimenti mi si intristisce. Questo non c'è nel decreto sicurezza ma è una mia iniziativa personale, spero che la sinistra non chieda le mie dimissioni perché passerò i prossimi 20 secondi dando dell'acqua a questa pianta, ma è un essere vivente anche lei e io ci tengo al benessere di questa pianta e al benessere di tutti, in Italia, in Africa, in Sud America, in giro per il mondo, lo ripeto, con tutto il buon cuore possibile, generosità significa spendere bene i soldi nel continente africano per permettere a quelle mamme e a quei bambini non dover più scappare, dando migliaia di euro dei delinquenti che rischiano di farli morire e con quei soldi ci comprano armi e droga. Aprire i porti adesso significherebbe tornare indietro. Io voglio andare avanti, aiutare l'Africa a tornare il continente bello che può tornare a essere e non una colonia di qualche paese europeo, però soprattutto difendere il diritto degli italiani a uscire di casa sicuri la sera, il diritto delle ragazze a prendere un treno senza l'angoscia, chissà cosa succede. Sentivo prima al TG una gran notizia, Arabia Saudita grande passo in avanti per le donne, wow, qual è questo grande passo in avanti? Fino a ieri il marito poteva divorziare senza manco dirlo alla moglie, sì avete capito bene, sono alcuni questi paesi islamici per cui la donna vale zero, zero, perché io dico attenti quando si parla di islam, attenti perché l'Arabia Saudita che è un grande paese islamico, fino a ieri prevedeva il divorzio segreto, di nascosto, cioè l'uomo andava in tribunale, divorziava, la moglie non lo sapeva, l'uomo tornava a casa e poi quando questo voleva se ne andava senza dare o dire nulla. Oggi grande passo in avanti, sapete cosa succederà? Donne che magari andrete a sposarvi in Arabia Saudita, non me lo auguro e non ve lo auguro però al cuor non si comanda, verrete avvisate via SMS. Grande passo in avanti nel nome della civiltà. Dal 2019 le donne in Arabia Saudita, se il marito sarà andato senza dir nulla a divorziare in tribunale, avranno un SMS. Non so quale sarà il contenuto dell'EMS? Gentile signora, il governo la informa che oggi suo marito ha divorziato da lei. Ah, bello, è proprio il modello in cui vorrei crescesse mia figlia. Come non sognare un paese così moderno dove si manda l'SMS per annunciare l'avvenuto divorzio? Dai, ragazzi teniamoci ben stretti la nostra storia, le nostre libertà, i nostri diritti conquistati con anni di battaglia, i nostri sacrifici, le nostre bellezze, il nostro cibo, il nostro mare, le nostre montagne, la nostra sicurezza e i nostri confini. Chiudo come ho cominciato innanzitutto dicendovi grazie. Si continua a fare quello che si è fatto da queste parti in questi mesi. In Italia si entra chiedendo permesso, per favore e dicendo grazie. Niente e nessuno mi farà cambiare idea. Buon 6 gennaio a tutte, non via SMS, ma di cuore e a tutti.